mi devo ricordare di caricare il video sul mio canale mamma che stai facendo? ah Leo, ciao! stavo preparando un video per il mio canale guarda, le squishy, squishy jelly balls carina, eh? mamma, devi essere più colorata per il tuo canale, troppo scuro e che cosa mi devo mettere? guarda, ho preso apposta per te qualcosa oh mamma mia eeeh un cappello mi devo mettere così sul mio canale? davvero? ma sei sicuro Leo? eeeh guarda che io mi fido eh, la giacca anche la giacca ma mi va? si aspetta eh aspetta Leo ma mi sembro tipo la cosa hai preso? anche la cravatta oh cavoli aspetta Leo tu sei sicuro? si e qui ragazzi invece c'è la valigetta dove avevo preso tutti questi vestiti mamma mia ok aspetta aspetta Leo tu sei sicuro eh che io devo andare così il cappello il cappello si ma così non vedo niente così vado bene fate un applauso a mamma diiii ma aiuto ma sicuro che vado bene così ti piaccio davvero? si adesso e quella? questa è la valigetta dove ti ho preso tutti i vestiti che cosa ci mettiamo qua dentro? non lo so e se ci mettessimo e se ci mettessimo queste qui ma le cose che si metteci questo dentro che ti piace? potrebbe essere una specie di tesoro oppure la borsa di Mary Poppins no vabbè la valigia in questo borsa valigia cassa non sai che cosa diceva Mary Poppins? cosa? con un poco di zucchero la ciava da giù se ne è andato ah ragazzi se volete vedere il video vi aspettiamo sul canale di mamma diiii ciao vi aspettiamo di qua io me ne vado ciao ha detto che devo stare così? va bene sto bene? si sei sicuro? ha chiuso anche la porta se ne è andato mi ha lasciato sola ci vediamo sul canale di mamma diiii ciao 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 ciao